8 ore di sciopero, manifestazioni e presidi su tutto il territorio regionale ed extra regionale per chiedere alle istituzioni di portare all'attenzione del Mise l'avvertenza dei lavoratori della Sirti, dei cantieri di Battipaglia, Sala Consilina, Benevento e Casandrino. CGL e FIOM Campania annunciano la settimana della lotta in programma dall'11 al 15 marzo prossimo per chiedere a Governo e Regione di portare l'avvertenza sul tavolo del Mise per discutere delle procedure di licenziamento collettivo avviate il 21 febbraio scorso che hanno colpito gli 833 addetti dell'azienda, di cui 147 soltanto in Campania. La decisione è arrivata a margine della convocazione di questa mattina presso la Terza Commissione Regionale Attività Produttive e Lavoro della Regione Campania, presieduta da Nicola Marrazzo, alla quale hanno partecipato le organizzazioni sindacali ed i delegati della RSU dei quattro cantieri della Campania.